La materia e l'energia. Trasformazioni chimiche. Concetti chiave. Sostanza. Una sostanza è formata da un solo tipo di atomo. Composto. Sostanza formata da elementi diversi. Reazione chimica. Reagenti e massa uguali. Formula. Simbolo di quali e quanti elementi formano la reazione. Combustione. Ossidazione produce calore. Ossigeno. Elemento reattivo e comburente. pH. Grado di acidità di una sostanza. Occorre diffidare del quasi uguale, del praticamente identico, del pressapoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi. Le differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze radicalmente diverse, come gli aghi degli scambi. Primo Levi. Le sostanze possono essere semplici, sostanze formate da un solo tipo di atomo, o composti, sostanze formate da elementi diversi. Reazione chimica. È una trasformazione irreversibile nella quale si ha la formazione di nuove sostanze, modificando la natura delle particelle delle sostanze. Formula chimica. Simboli. Rappresentazione di elementi e composti tramite simboli. Elementi atomi. Indica quanti elementi formano un composto e quanti atomi formano la molecola. Principio di conservazione della massa. La massa delle sostanze reagenti è sempre uguale alla massa delle sostanze prodotte. Reazioni. Possono essere di tre tipi. Reazione di sintesi. Due o più elementi si combinano per formare un composto. Reazione di decomposizione. Un composto è scisso negli elementi da cui è composto. Reazione di doppio scambio. I reagenti si scambiano avvicendo un elemento. La combustione. È una reazione di ossidazione. La reazione di ossidazione sviluppa calore. Requisiti alla combustione sono il comburente, ovvero l'ossigeno dell'aria, e il combustibile. Ossigeno. L'ossigeno è un reattivo. È molto reattivo perché si combina sia con metalli che con non metalli. L'ossido basico è quando l'ossigeno si combina con un metallo. Con l'acqua si ottengono le basi. L'ossido acido è quando l'ossigeno si combina con un non metallo. Con l'acqua si ottengono gli acidi. Energia della reazione chimica. Le reazioni chimiche possono essere esoenergetiche, ovvero i reagenti si trasformano in prodotti e si libera energia all'esterno. Endoenergetiche. I reagenti si trasformano nei prodotti assorbendo energia dall'ambiente esterno. interno. In base al calore si parla di reazione esotermica o endotermica. Grado di acidità. Le sostanze acide sono sostanze in soluzione con pH da 0 a 7. Le sostanze basiche sono sostanze in soluzione con pH da 8 a 14. pH neutro. L'azione di una sostanza basica neutralizza quella di una sostanza acida formando acqua e sale. Per approfondimenti si consiglia nei siti chimica online. Treccani. Chimicare. Grazie per la visione. Se avete apprezzato il video mettete like o iscrivetevi al canale. Alla prossima lezione.